A come Ancarano è il primo comune della provincia di Teramo scelto in ordine alfabetico dove da oggi prende il via il piano vaccinale messo in atto dall'asla teramana sugli 11.000 anziani over 80. Dopo Ancarano l'asla di Teramo ha già stilato un calendario per la vaccinazione e da lunedì toccherà agli altri comuni della provincia seguendo sempre il criterio dell'ordine alfabetico. Soddisfatto il sindaco di Ancarano Pietrangelo Panichi da oggi infatti nel palazzetto del comune Vibratiano saranno vaccinati 67 ultraottantenni. Il primo cittadino ricorda che i destinatari della vaccinazione verranno avvertiti direttamente e sarà indicata loro la fascia oraria di somministrazione. Potrà essere vaccinato solo chi è stato contattato dal comune. Chi non è stato avvertito non potrà essere vaccinato. Inoltre agli ultraottantenni allettati il vaccino sarà somministrato direttamente a domicilio dagli operatori dell'asla di Teramo. Il tipo di vaccino anti-covid che gli anziani riceveranno sarà quello della Pfizer. Inoltre oggi al secondo lotto dell'ospedale Mazzini di Teramo gli agenti di polizia potranno essere vaccinati con l'AstraZeneca, un vaccino che ha una validità contro il covid del 65%. Il sindacato SIAP invita comunque tutti gli operatori delle forze dell'ordine a vaccinarsi subito per se stessi e per gli altri. Per il comune di Teramo, quando verrà il suo turno, gli anziani saranno vaccinati in due luoghi già individuati, l'ipogeo e il palazzetto dello sport. Purtroppo si comincia già a parlare di una terza ondata di contagi in Abruzzo. I dati sull'emergenza sanitaria continuano a peggiorare e il bilancio delle vittime sale a quota 1.538. Vaccinare dunque è una priorità assoluta.